A 50 anni dalla registrazione del memorabile album Revolver è stata presentata a Palazzo Lascaris la seconda edizione del Torino Beatles Day 2016, che vede la partecipazione di vari gruppi musicali piemontesi e ospiti di fama nazionale e internazionale. Obiettivo radunare gli amanti della buona musica e ricordare l'influenza che il gruppo di Liverpool ha avuto su costume, moda, abitudini dei giovani degli anni 60 in tutto il mondo.